Quanto sei bella Roma, quando è sera, quando la luna si specchia dentro il fontanone Bentrovati cari amici dalla vostra fata zucchina, oggi vi parliamo di acqua, quella che arriva dalla sorgente più alta d'Europa Oggi andiamo a fare una doppia ricetta detox Innanzitutto partiamo da una detox drenante E che cosa c'è di più drenante se non l'ananas e il kiwi insieme Quindi che cosa ho fatto? Ho tagliato un pochino di ananas e adesso vado ad aggiungerla in tocchettini nel nostro bicchiere E stessa cosa farò con il kiwi E ovviamente andiamo ad aggiungere l'acqua Ecco che una volta colmo il nostro bicchiere Lo facciamo poi riposare in frigo, sarebbe consigliabile per una notte E ricordiamoci che poi dopo averlo bevuto non buttiamo via la frutta ma la recuperiamo in che modo la mangiamo Ma non ci basta una ricetta, facciamo anche la seconda perché questa è un'acqua che merita assolutamente tanta attenzione In quanto ha un residuo fisso di sali bassissimo Quindi è ottima per chi ha problemi di ipertensione o comunque problemi renali Facciamo una ricetta digestiva, quindi sempre detossificante ma che ci aiuti a digerire Allora ho scelto per voi il lime Un lime edibile quindi non trattato perché andremo a utilizzare anche la buccia L'ho tagliato a fettine piccole E poi magicamente il nostro zenzero che ovviamente sono andata a spellare E poi l'ho scubettato in modo che sia piccolino Ed è la volta dell'acqua che andiamo ad aggiungere delicatamente Ed ecco che le nostre ricette detox sono pronte Mi raccomando anche nei nostri brindisi durante tutta la giornata puntiamo sempre in alto Sapore di sale, sapore di mare Sapore di sale, sapore di mare Sapore di sale, sapore di mare Sapore di mare Sapore di mare Sapore di mare